top ma 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 malandrina il bicchiere di vino che mi tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore io sono alessandro e io sono daniele e questo questo è pov il podcast ma ancora ma io ripeti ciao ciao oi oi ecco un c a me a te e al pride mo certo che le tutte le parole proprio mese dove avere il il coso finale capito mica kaleidoscopio che chi lo usa mai ma ti posso dire che a me un po mi cringio quando parliamo del pride month perché c'è questa cosa del finale che se dici pride month cioè ma manco fossi di veramente si vede che la tua umanità lgbt è in italia esatto però nemmeno a fare month perché c'è non siamo a londra capisci vabbè però è quando hai bisogno di darti quell'attitudine capito è l'amica di londra che torna dopo due mesi e fa i'm sorry scusa west london quello che ti dico io è parliamone secondo te pronunciare l'inglese è meglio l'iperpronuncia quella super corretta o no cioè perché allora se fai il correggiuto è bruttissimo secondo me passi da antipatico anche se però sarebbe quella la cosa giusta però si passa io percepisco un po l'antipatia d'altra parte non puoi manco fare italian i was there capito allora ti devo dire che qual è la cosa giusta forse non c'è una cosa giusta perché molti inglesi hanno fatto presente che ad esempio è bello anche sentire l'origine esatto se tu hai un inglese comunque grammaticalmente corretto e quindi ti si capisce la pronuncia un pochino italianizzata non è così fastidiosa è un po' secca sì i mean cioè poi odi però secondo me quando la si vuole utilizzare un pochino più specifica anche a livello di pronuncia forse è meglio imparare a utilizzarla ecco esatto e finché parliamo con un inglese ci sta perché lui lo sa e siamo tutti felici ma siamo tra italiani e sai il bisogno di dire una parola in inglese stai in paese come fai esatto tu stai proprio in piazza e devi dire che ne so over thinking che fai questo weekend weekend no ma che fai che fai sto weekend e oppure no perché sono troppo un over thinker capito cosa dici over thinker over thinker non lo so ma ti posso dire che in molti comuni piccoli italiani avresti già un coltello sulla gola dicendo over thinker ma non è questo l'argomento della puntata no esatto non vogliamo parlare di questo che cosa di cosa ci parliamo oggi io e te di cosa risquisiamo io e te oggi di come siamo nel mondo no è bello pensaci delle volte mi dà questi titoli ma sei quello dei titoli delle scuole superiori no mi hai riconosciuto ho sentito la puntata zero della prima stagione eri quello dei titoli perché me lo sono riscoltata a dire certo e oggi chiacchieriamo un pochino di estroversi ed estroversi perché estroversi ed estroversi perché gli introversi non ci sono studiati ma il fatto è che parlando qualche giorno fa su di cosa parliamo di cosa non parliamo io mi è venuto in mente questa cosa perché penso cioè se tu vedi su tiktok online social è un discorso un po aperto quello dell'introverso e dell'estroverso soprattutto per la rivalza da parte degli introversi perché c'è molto no che ne so io vedo proprio un format che è tipo la mia il mio weekend da introverso oppure che cosa farebbe un introverso alle feste capito è una cosa di cui si parla soprattutto per dare luce anche a quelli di cui si è parlato sempre meno perché in realtà magari nemmeno vogliono che si parli di loro però c'è questa rivalza dell'introversione che anche in questo caso forse un po mi tocca ma non lo so perché io quello che ti voglio chiedere è tu come ti senti da introverso o estroverso perché poi diamo anche un po due puntini di differenzione ma tu all'inizio così brucia pelo sei introverso sei estroverso non puoi dire via di mezzo no io perché io sono una via di mezzo ad esempio secondo te io ti dico che sono il più estroverso degli introversi che palle questa è la mia definizione ma questa te la diedi anche tempo fa io tu lo sai cioè nel senso io sì cioè nel senso penso che sono il più estroverso degli introversi tu invece sei una via di mezzo io mi sento totalmente al centro di questa cosa cioè veramente non so cioè ti ho fatto la domanda ti ho detto non puoi mettere via di mezzo ma le metto io perché te la voglio dire per te però fammi capire che intendi tu per l'introverso ed estroverso cioè dammi una definizione allora un po' mi sono informato sempre alle tre di notte con un momento ricerca la ricerca ecco è stata così approfondita che mi sono fermato a un video youtube è un po l'arrivo di tutte quante le ricerche questo è proprio così un po pur parler certo e quello che posso dire di introverso e di estroverso è che c'è una parte del nostro cervello e qua io non penso il me di qualche anno fa non avrebbe mai pensato che io potessi dire questa cosa c'è l'amigdala nel nostro cervello presente sistema limbico ci sono uscito l'altra sera io e lei da sole che mi continuava a impulsare è introversa lei quindi l'amigdala che è la parte del cervello responsabile delle emotions delle nostre emozioni e c'è un'emozione specifica che è quella della paura sostanzialmente per gli introversi e gli estroversi hanno un po' la regolazione del sentimento della paura di come l'amigdala controlla la paura diverso cioè sono diversi cioè per quello che per te potrebbe essere una cosa critica paurosa l'amigdala ti dice amo no fermo non ti buttare dal palazzo che muori e tu senti quel senso di oddio la stessa cosa può essere si traduce anche in ansia sociale in altri tipi di paure chi ha un'amigdala un po' più cazzuta più bella bella decisa bella thick diremo mi è un po' più introverso perché tende ad avere più paura delle cose cioè ha paure più accentuate semplicemente chi invece l'amigdala ce l'ha un po' più pigra un po' più recessiva esatto la situazione è un po' più tranquillo e quindi hai anche meno paura di fare cose quindi quella che potrebbe essere una pseudo spiegazione scientifica dietro l'introversione e l'ostroversione è dietro a questa cacchio di amigdala quindi da oggi io non dirò alessandro è introverso dico alessandro è una grandissima amigdala due amigdala enorme grossa capisci e questo è un po' il punto poi che sia vero che non sia vero non sarò io a dirlo quindi informatevi non mi date la colpa di niente grazie però questa è un pochino più scientifica come cosa molto interessante quindi la tua povera abbiamo lasciata ad entrare gli opuscoli di critica scientifica guarda è strano perché secondo me introverso e straverso è un'etichetta molto particolare perché comunque le etichette stiamo parlando esatto cioè se vogliamo post it come le vogliamo di comunque te la appiccica addosso forse te la appiccicano esatto oppure te la appiccicano gli altri anzi forse introverso e straverso è una delle cose che è una delle prime cose che ci appiccicano addosso quel da bambino no quel bambino non parla molto con gli altri oppure quel bambino non si fa mai i cazzi suoi io esatto è questo che ti dico io dico in questa situazione sarei quello che non sta un attimo zitto ok quindi quindi appaio e straverso quindi già noi mettiamo forse introverso e straverso a parte che c'è tantissimi campi quindi forse è impossibile dire che siamo solo una cosa a meno che non siamo veramente molto protesi verso un uno dei due esatto cioè completamente tipo possiamo dire tipo vai quelle persone che tu non vedi da una vita e appena le vedi ti si mettono a raccontare tutti i cazzi loro come se tu poi dopo non ti dovessi sentire in colpa torna a casa e al fidanzato alla fidanzata tua al migliore amico tuo ma che cazzo mi ha detto quella e soprattutto perché è successo prima di un esame all'università cioè sempre così cioè l'amica che non è amica tua ma ti perché là l'amica l'amo fatto uno sputacchio che ti giuro in and inondata ma perché prima di un esame l'amica la misiatrofizza e quindi tu racconti cazzi perché uno devi cercare le risposte in giro per le persone però ti dico è giusto secondo te che non è forse giusto che siamo un po' tutti via di mezzo quando si tratta di ciò perché è una questione di sopravvivenza perché ti dico io posso anche essere la persona più estroversa di questo mondo ma se io mi rendo conto che se mi metto a parlare in gabbo in una situazione con persone che la pensano di merda rispetto a me amo la persona più introversa ma certo che ne pensi tutto allora parlando di questo quando abbiamo deciso di parlare di questo argomento mi sono detto da una parte che brutto perché cioè non mi secondo me è un po' scorretto finché uno vuole può fare quello che vuole però mi dispiace un po' mettere l'accento sul bianco sul nero introverso estroverso secondo me sono si tratta più di uno spettro più di una linea con tanti puntini in mezzo poi ognuno si regola ma soprattutto è ovvio che la situazione in cui ti trovi cambia molto il modo in cui ti poni rispetto agli altri cioè l'esempio di quelli cioè se io sono in una stanza di persone che interagiscono nel nome che ne so di una cosa per me lontana buttala il calcio io divento introverso vuoi non vuoi capisci capisci ti fai calciare quindi cioè è comunque una cosa che varia secondo delle situazioni di quello che succede proprio e che quindi è giusto che sia così e soprattutto secondo me la cosa principale è è bello che riconoscere come siamo complessi cioè noi non possiamo io non mi sento solo o introverso sono di più di questo allora a parte che quindi tu già mi siamo complessi tu non mi devi etiquettare capito almeno che i glitter così si vede oppure a un prezzo alto esatto ascoltami a parte che già me la metti come una questione di sopravvivenza l'essere introverso estroverso è un po' sì ed è top ma ci hai pensato mai che è anche un modo molto bello di descrivere il modo in cui uno vive l'amore nel senso adesso anche questa anche in modo da approcciarsi nel senso esatto che mi lanci un altro che freggiamo mi hai sgozzato e dai ci sono persone che sono tremendamente estroverse anche nel nel modo in cui vivono la famiglia le amicizie però quando si innamorano di qualcuno provano dei sentimenti amo non gli togli non gli cacci un uccece dalla bocca quello si chiama trauma che di solito è colpa dei genitori quello si chiama un ex che ci ha feriti posso dirlo si chiama ex che ci ha feriti però quello di chi i genitori chi l'ex mettiamo le cose in ordine pensa a quelle persone che magari tendono a rimanere in una in una modalità molto più da introverse quindi non mi comunicano ma quando sono innamorati di qualcuno provano un sentimento a batti beccà che fanno le frecciatine che improvvisamente prendono l'occhio di bui e fanno tu ehi ma io ti posso dire a riguardo io trovo sto generalizzando come stiamo facendo dal minuto zero quindi possiamo stare tranquilli gli introversi forse sono a volte un po' più interessanti degli estroversi non credi ottimi ascoltatori capisci sai perché è difficile che caglino fuori dal vaso ma poi da cioè aspetta quando poi approfondisci un rapporto umano con un introverso una un introverso cioè la relazione evolve molto bene molto meglio capito io lo trovo interessantissimo se hanno un mondo dentro perché talvolta sono anche quelle persone che tu dici stanno sempre in disparte chissà che c'è da raccontare amo delle volte non c'è che raccontano cazzo di niente e tu rimani fregata Cassiopea te lo posso dire amo no perché sono quelli che tu dici no lo devo salvare tu hai un trauma devo scoprire cosa hai posso essere la tua penicillina invece solo non ha voglia capito e poi diventi tu lo trauma perché ti traumatizzi invece gli estroversi però secondo me sono persone che capisci quello che ti dico colgono un po' al balzo l'occasione perché sicuramente so quelli che sbattono più di tutti si sbattono di fronte e in faccia alla realtà ogni volta perché magari sbagliano di più perché si ritrovano addiccafonate o castronerie perché dici perché non me stavo zitto che me devo per forza però so quelli che colgono c'è carpe diem capito c'è quella situazione dai tu pensa a un master tu hai fatto un master Ale si i master si ritorna un pochino a la scuola la scuola superiore dove tu magari non è che devi competere con la tua migliore amica però amo hai preso sette presto e resta io ho preso sette e mezzo quella è la metà delle cose cioè però ti amo amo io l'ho fatto tu l'hai fatto? una volta si perché sono introverso e si tanto infatti però ai master ai master tu ti devi fare in qualche modo notare perché ai tempi che ne so buonanima di gg proietti ok che magari lui teneva delle classi di mastrum come si dice mastrum che sto a dire? che lingua è? non lo so qualche lingua morta quando tu vai all'università i docenti magari sono si specializzati in certi campi ma non è gente del mestiere quando tu stai a un master tu sai che comunque la tua bravura è anche quella di renderti visibile attraverso lavoretti che fai eccetera lì l'essere introverso cioè amo la bella swan che è dentro di te la lasciamo un attimo a casa lì è il momento è il momento di essere un attimo estroversi sì sì ma quello è difficile secondo me cioè da introverso è la cosa più difficile però forse la vita non ci insegna che possiamo essere tendenti a una cosa ma dovremmo sviluppare l'essere bravo ovvio ma infatti quello che ti voglio dire cioè secondo me se dobbiamo dare un po' oltre a amigdala tutto quello che ti pare robe ataviche tu sei il paragrafo che tutti saltano di quei libri tanto non lo chiede a profondimento scientifico ma a parte la rottura di palle se vogliamo dare un po' una definizione oltre quella scientifica che un po' ci differenzia tra essere A o B introverso o estroverso A o P? A o B ah ok le prime due lettere dell'alfabeto è le tue batterie sociali la tua batteria quando sei in gruppo si scarica o si scarica si carica o si scarica cioè tu senti in una situazione sociale che non e non parlo di stai con i tuoi migliori amici situazione sociale quindi più ampia un locale una festa in quella situazione le tue batterie vanno verso l'alto o verso il basso? allora c'è un discorso interessante da fare no dimmi eh sì esatto su questo c'è un discorso interessante dimmi ecco su up o down dipende no up o down no allora è in questo momento perché no tu in realtà è vero io per quello che ti conosco tu sei il più dipende cioè tu sei il tipo che si carica durante le situazioni le feste ma a questo tipo ha dei picchi ragazzi che io cioè se solo potesse lui partirebbe per un iglu cioè si metterebbe dentro un iglu si chiude dentro nessuno lo vede per 24 ore ho portato le foto di me in peruca i monaci mi hanno detto vattene al fangulo che mi ha rotto il cazzo pure a me quindi hai ragione nel dire dipende perché ti spiego allora io sono sempre stato il ragazzino ad esempio che da bambino ha sempre si è sempre sentito dire da grande riceverai un sacco di schiaffi se non impari ad esempio a smettere di dire quello che pensi che continuamente vada detto a un certo momento mi ha detto lo stesso vero? sì terza media pure te traumatizzato totale a un certo punto della mia vita ho detto devo cercare di essere qualcos'altro perché non posso se tutti mi continuano a dire così veramente mi cascano gli dendi prima o poi come dire lo stesso ho cominciato un attimo a cominciare a stare un pochino più nel mio scoprendo ce l'hai fatta? sì scoprendo delle vesti che forse non è che non erano mie ma forse avevo cominciato a vestire un pochino troppo in fretta sai quelle cose del è cresciuto troppo in fretta poi c'è chi si ritrova a sentirsi vestito in un modo che non vuole io ho semplicemente detto mi sono messo una XL quando portava ancora una M poi mi viene da piangere ma poi ripensare al mio passato questo è body shaming cosa vuoi dire? nel senso che cresce è vero hai ragione no però non è che passare guarda come si dico le cose non è che hai detto XS invece era una M hai detto XL perché si cresce no è una cosa negativa essere grassi per te Daniele a un certo punto però mi sono ho riscoperto quel lato di me un pochino più effervescente nel dire no fammi rimettere in gioco in quel periodo però io sono una persona che purtroppo magari molti si rispecchieranno in questo io vivo di picchi per me molto spesso non perché io lo voglio il grigio non esiste quindi è o estremamente sociale o estremamente asociale introverso confermo la cosa è stata che io ho scoperto la capacità di rigenerarmi molto quando sto con gli altri il punto è che ho cominciato a capire che poi gli altri si fanno un po' troppe aspettative perché è come se poi tu fossi obbligato ad esserlo l'etichetta che tu dicevi che gli altri ti mettono cioè se io per un mese non è che ovviamente un mese ci sono e l'altro no però se io un mese ho particolarmente più energie da spendere nella mia parte estroversa perché poi deve diventare uno standard che io devo mantenere è il tuo ruolo è il tuo ruolo assolutamente tant'è che io so quel tipo di persona che quando Daniele per due minuti in una stanza non dice niente oida tutto ok ti dico questa poi mi finisco ieri sera stavo io e i miei coinquilini a casa e c'è la mia coinquilina a sere un bacio che a un certo punto io l'ho vista che era indisparte non che non fosse partecipe ma lei stava ascoltando e io un po' l'ho invidiata perché ho detto che bello poter ascoltare senza sapere che gli altri si aspettano che tu debba per forza dire qualcosa e non perché tu non sei presente ci sei eh però ascolto sì 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 ma il fatto è questo secondo me una delle cose un'altra cosa importante è che ci sono due fatiche fondamentali dell'essere o una o l'altra cosa perché gli introversi capiscono fin da subito che chi è estroverso è facilitato a livello sociale cioè a volte l'estroverso parliamo a scuola con gli amici cioè se sei simpatico e aperto agli altri hai dei vantaggi che per chi è introverso e non riesce pure gli introversi possono essere simpatici arrivo assolutamente no no poi dico sai quel tipo di simpatia di estroversione quella specifica che cioè nel senso che in un gruppo di persone cioè quella persona che si nota è quella che si nota un po' meno essere la persona che si nota ha dei vantaggi perché naturalmente fai delle cose che gli altri magari penserebbe fare a te no quindi hai dei vantaggi e l'introverso impara da subito a dire ok io ci devo mettere l'impegno a non essere così in alcune situazioni perché mi ha richiesto di non essere così vedi al lavoro essere introverso al lavoro potrebbe essere sinonimo di a te non interessa niente della policy aziendale giusto capito oppure anche all'università se non intervieni all'università sei uno di duecento se sei introverso e stai nel tuo e non te la senti di parlare in pubblico e fare domande il prof potrebbe dire no non mi ricordo di te non ti metto quel mezzo no sarebbe la tomba dei miei sentimenti capito esatto chi sei tu e questo cioè provoca un forte engagement da parte delle persone cioè devono impegnarsi ad essere più estroverse per essere viste positivamente dagli altri ma invece il rovescio della mia età che è di essere estroverso è proprio quello che dici tu cioè che chi è estroverso ha carica di aspettative gli altri volente o nolente del fatto di esserlo ma non è detto che siamo sempre estroversi e a quel punto la situazione pesa succede anche a meta che quando la giornata è storta e io non parlo a cena quella cena è infinita è insupero perché io o faccio finta che non è successo niente mi impegno a dire ok è il mio ruolo fare il pagliaccio devo continuare a farlo e lo rifaccio e se invece non ce la faccio perché magari non ci riesco perché non è proprio giornata la situazione cambia perché tu ti dici ma tutto ok ma sei silenzioso sei nervoso e poi magari ce l'ho proprio con te e tu mi dici ma sei nervoso sì ci fai diventare nervoso a forza di chiedermelo mamma mia c'hai ragione secondo me come tutte le cose c'è un po' il rovescio questo per dirti però che l'introverso fatica di più secondo me fatica di più però l'introverso mi impara a dire di no e che credo che sia proprio la questione del esatto delle aspettative perché io ti posso dire io delle volte mi sento più in dovere di dover assecondare talvolta questa idea dell'essere estroverso perché è vero che talvolta ha tantissimi lati positivi quello di essere estroverso posso fare un appello? perché te lo chiedo? noi un po' qui sta il FedEx mi sento Carlo Conti esatto è anche il mio podcast ok? dirò la mamma dirò l'avvocato l'avvocato steso tu chi sei? FedEx o Luis? ma mi sa tu sei Luis eh dai io non c'ero il sole in bilancia ma il mio mercurio in vibra perché il Federico Lucia non è il bilancio circondatevi se potete di persone che non vi puntano il dito nel momento in cui avete bisogno di voi sai l'altro giorno ho detto a mia madre io che faccio il saggio con la persona che mi ha partorito non allontanare le persone che vogliono la tua energia allontana chi non ti permette di recuperarla ognuno di noi ha bisogno di dei momenti dove ha bisogno più di se stesso vabbè sì il bello sono quelle persone che non te lo fanno notare? no che non te lo fanno notare perché è anche giusto farlo notare perché c'è ognuno poi si assume le proprie responsabilità perché se tu hai come faccio io un mese da introverso da estroverso e poi passo un attimo ogni tanto dei momenti così le persone intorno a te sono anche preoccupate e vogliono chiederti va tutto bene però ma chi ti conosce però lo sa esatto bravo chi ti conosce lo sa delle volte non servono spiegazioni delle volte le persone le conosci e le persone che quando tu hai bisogno un attimo di un momento più per te stesso ti reclamano come se fossi tu sbagliato sono proprio le persone più sbagliate da tenere nella propria vita ma sai anche quando si parla molto del giustificarsi io quando vedo che devo tendere a giustificarmi troppo alla quinta volta che I over justify mi dico ma non capisco ma te lo devo spiegare veramente e ricominciamo quindi secondo mi parte un mega rutto tra poco a forza di bere guarda che la magdalena che c'hai dentro quindi oltre alla questione del chi ti conosce lo sa è anche una questione di giustificazione cioè quando io tendo almeno personalmente a notare che c'è bisogno di giustificarmi troppo nel non andare non fare o anche fare per forza il no dopo un po' mi scoccio perché dico ma te lo devo spiegare io ci fai caso che questo processo è più tortuoso quando passi dall'estroverso all'introverso perché quando fai l'opposto la gente fa oh Ale è una settimana che esce quando invece fai l'opposto però non ci vediamo da un po' io sai pensavo Dani questa puntata ha cambiato un po' la prospettiva perché io prima di registrare ero convinto di crescendo io sto virando verso un po' l'introversione nonostante da più giovane fossi più tendente all'estroversione capito però in realtà più parliamo più mi ripeto nelle cose da estroverso quindi forse ho una idea di me un po' strana ma delle volte basta parlarne con un amico dopo tutto oddio no dai quello che cerchiamo di fare da tipo ottobre cucciolina però mi piace dove siamo andati a parare perché abbiamo innanzitutto fatto capire un po' anche a noi stessi noi parliamo tanto di quelli che devono parlare davanti in una telecamera ma mai noi siamo i primi che utilizziamo questi spot per analizzarci noi che ci mettiamo in discussione mamma mia tra un po' mi si vedono i pettorali che non ho ma perché faccio tipo ken esatto quelle parannanze che tengono in cucina in paese con gli addominali solo me io adoro io papà cucina d'addio e poi è solo giugno io voglio vedere che cavolo facciamo tra un mese qua dentro mettiamo il ghiaccio adesso vediamo probabilmente tanto siamo in mura esterne quindi che se ne frega se ti posso dire se introverso e estroverso so una delle tante etichette che il mondo ci dà forse è una di quelle più fluide perché veramente abbiamo appena capito che cioè forse eravamo partiti con la puntata nel dire chissà quando possiamo applicarlo neanche lo sappiamo perché magari una stessa circostanza nella nostra vita una volta la vogliamo passare più con un impasse da da introversi e delle volte un po' più da estroversi l'importante l'importante è non sentirsi obbligati ecco esatto io mi ci fai ad esempio con la pausa pranzo io ho dei momenti in cui potenzialmente potresti farlo in comunità ma io ti dico che sono ben felice di stare un attimo da solo e scrollare cioè capito le tue pause pranzo in comunità quando t'avevano chiuso perché mi mandavi sempre gli audio sto patrignano ma io amo non sta funzionando la terapia non sono tomate cioè lì veramente sento ad esempio nelle pause pranzo in cui mi piace un attimo dire ok siccome sto cioè parliamo tipo la situazione lavorativa come può essere anche quella scuola l'università ci impone di performare tanto per tante ore almeno a me questo succede io mi sento in dovere di fare mostrarmi interessato fare cose proprio a livello mentale e fisico per più ore quindi ci sono quell'ora e mezzo quell'oretta mezz'ora quanto è di pausa pranzo in cui dico no io non in questo momento non voglio performare voglio indossare la mia maschera da merda quale sono go pirandello go esatto e stare lì da solo cioè marcire capito poi dopo quella mezz'ora splendido splendente tutto come prima dove eravate eccomi cosa mi sono perso però c'è d'altra parte la vedo come un momento per poi dico ok perfetto e non sai che contentezza e mi dispiace magari non mi è mai successo ancora ma forse potrebbe succedermi che mi dicono perché mangi da solo perché voglio farlo esatto perché lo vedi che c'è una sola forchetta capito oh ma posso ma posso o no posso fare come cazzo voglio no che ti stavo che ti stava dire questo intercalare che comincio con no sta diventami madre è una vita che nelle crimine non devi cominciare con no che indisponire il trucuto io no no jinx monsoon ne sa qualcosa eh jinx monsoon ne sa qualcosa totale sai che faccio io ogni tanto invece c'è stato anzi che facevo ogni tanto c'è stato un periodo della mia vita dove pensavo di aver trovato l'escamotage più figo di questo mondo cioè io pensavo che se io avessi avessi best performato nel mio momento da estroverso mi sarebbe aspettato da parte di tutti il mio momento introverso senza che nessuno mi avesse letto niente per scoprire che non è mai così che non è mai così perché poi arriva il fatto del cioè no devi sempre essere così e invece io che ne so capito come quando vivevamo insieme festa organizzo io cucino io alle 5 ciao e nessuno si può permettere di niente perché Daniele ha cucinato dalla stamattina alle 8 con Daniele magari c'era gente in casa no e si parla dell'ordine dalle 3 alle 25 persone poteva capitare no perché cioè oddio ah bello facciamo questo facciamo quest'altro mai non vi ho detto questo no l'ultimo ospite esce dalla porta d'ingresso la porta d'ingresso si chiude Daniele chiude la porta non succede nient'altro vi lo giuro e io penso che se loro sapessero queste persone sapessero la differenza dalla porta aperta porta chiusa non sarebbero più tornato però posso ditte non mi sento fake io veramente no no non perché tu me l'abbia detto guarda perché lo pensi perché hai fatto quando mi devo giustificare con qualcuno però non ci possiamo fare il tiktok perché l'ho detto troppo tempo fa ma sai ecco poi ti faccio ci ho pensato l'altro giorno siccome il nostro profilo tiktok sta avendo dell'effervescenza ultimamente io volevo fare proprio un saluto alle ultime persone che si sono un po' collegate tardi che bello che il primo saluto che gli dai so io con le pezze perché amo io se mi riguarda in zoom secondo me io schiumo cioè all'inizio peggio adesso è un po' meglio ma male quindi niente siamo felizi di accogliervi in questo podcast ragazzi esatto quindi niente tiktokers ci siamo anche noi perché abbiamo noi facciamo il big numbers ormai possiamo dire soprattutto a parte tu che ti flexi un attimo sono una persona introversa io anche perché non sono così big tra poco apriremo anche youtube per tutti coloro che non hanno spotify e non se lo vogliono scaricare così almeno avremo anche un altro canale di comunicazione non so perché poi cioè è da un po' che lo diciamo però non abbiamo mai messo in pratica sta cosa perché ho messo la fibra adesso abbiamo ah sì sì l'ho messo l'altro giorno ora sono sky prima ero boh team non mi ricordo tutte le volte noi diamo sempre delle informazioni tu ti è mai tu ma ci informi tu che fai abito in via ti posso concludere concludiamo arriviamo alla conclusion sì al dunque il mondo è bello perché è vario sia come sia sia come sia a chi già trafia ecco là avevamo un grande esempio di introverso contro estroverso guarda che cazzo di esempio patti che però poi vedi mi sa sali sul palco e fa c'è chiero papà eh beh quella però è la sindrome della protagonista disney che è un po' falsa invece sono brutta invece ha solo un apparecchio dietro è stupendo stai dando dei falsi agli introversi io mi mi distosio non volevo non so che stai facendo dove è finito dove è finito Alessandro il prossimo perché non c'è la prossima punta eccomi qui arriva pure il dissing nostro alla fine boh sai che è raro che dopo che sto un momento intero con te mi esco arricchito oggi sì io che ti insulto e sudato dopo questo momento con te io sono arricchito e anche un po' sudato sì no ma che bello mi sono proprio c'è ho un'idea molto più chiara di quello che pensavo riguardo all'argomento adesso dopo chissà che loro cosa pensano soprattutto esatto fateci sapere cosa pensate perché abbiamo un Q&A poi il sondaggio esatto il sondaggio dove state cioè quanto secondo voi state dalla parte dell'introversione quanto è sto versione perché tanto abbiamo capito che non possiamo fermarci o soprattutto quali sono i più grandi campi della vostra vita che vi fanno switchare questa modalità perché ci sono proprio situazioni che non ci sono scelte cioè o sei quello o sei quell'altro perché magari te lo auto imponi tu voglio dire o perché devi da fuori chi lo sa esatto comunque le due estroverse qui in questione vi aspettano tutte le domeniche alle 15 dove su Spotify su Apple Podcast e Amazon Music e sai che ti posso dire come ti dico amo togliamo Amazon Music che tanto non ci serve finché no finché quella telecamera è spenta tutto quello che dici non ha valore e io torno a spegnervi ciao